A Lido oggi continuano i lavori che stiamo facendo da tempo e tra stasera e domani chiuderemo via Spontini, che è quella che corre parallela alla ferrovia e per rendere efficace questa chiusura abbiamo deciso di mettere un doppio senso di marzo in Viale Cairoli. Abbiamo già disposto la segnaletica per evitare che la gente parcheggi sul lato mare di Viale Cairoli tra la chiesa di Santa Rita e il sottopasso carrabile sotto la ferrovia in piazza La Mendola e quindi chiediamo alla cittadinanza, come sempre facciamo, cerchiamo di avvisare tutti prima in maniera tale che nessuno poi veda la sua macchina multata o addirittura rimossa. Però se domani mattina ovviamente le macchine saranno ancora lì saremo costretti a rimuoverle, quindi chiedo la collaborazione ai cittadini perché stasera, al massimo domani mattina, vengano rimosse tutte le macchine così come riportano i cartelli. I lavori proseguono anche alla caserma Paolini dove questa mattina, nonostante una o due macchine siano rimaste lì, abbiamo cercato di contattare i proprietari. Stiamo facendo i lavori per quanto riguarda il rifacimento della segnalettica orizzontale, quindi da domani martedì si potrà ritornare a parcheggiare all'interno della caserma Paolini.